Clima di lotta e di tensione ha Vescovato, dove l'amministrazione Conti ha diffuso un volantino che invita tutta la popolazione a partecipare all'assemblea di stasera, presso l'auditorium di Via Marchi, per un resoconto sui primi quattro mesi di lavoro della nuova maggioranza, che lamenta continue accuse sui social e promette di illustrare pubblicamente proprio stasera le criticità trovate a Palazzo Comunale. Fra gli argomenti spicca la qualità dell'acqua, da quando il 14 giugno la rottura di un tubo dell'acquedotto durante i lavori di rifacimento dell'asfalto di Piazza Europa, faceva venire alla luce una conduttura di fibro cemento contenente amianto. Il sindaco Gian Antonio Conti ha risposto all'interrogazione scritta della capogruppo di minoranza Maria Grazia Bonfante, sostenendo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Direttiva Europea e il decreto legislativo 31 del 2001 hanno stabilito che la presenza d'amianto non va verificata e non ne fissa i limiti. L'acqua è potabile indipendentemente da questo parametro. Conti poi si riferisce alle dichiarazioni pubbliche dell'amministratore delegato di Padania Acqua e del tutto rassicuranti. Resta il dato di fatto messo in evidenza da Maria Grazia Bonfante. Si tratta di normative vecchie e superate che risalgono al 2001. Per questo la minoranza, rilanciando le richieste di molti cittadini, chiede al sindaco Conti di battersi per proseguire il miglioramento della qualità dell'acqua con criteri più aggiornati, in linea con il gestore provinciale del servizio idrico integrato. Infatti per questo obiettivo nel 2014 era stato approvato dall'ufficio Ato, dell'amministrazione provinciale, un investimento di 700 mila euro su Vescovato. Nel 2018 inoltre Padania Acqua ha inaugurato il nuovo potabilizzatore di Pescarolo che serve anche Pessina, Cicognolo e Vescovato. La dottoressa Fiorella Belpoggi dell'Istituto Ramazzini, noto per la ricerca sul cancro, ha dichiarato più volte che l'amianto disciolto nell'acqua è pericoloso per la salute, così come le fibre disperse nell'aria. Di qui la richiesta da parte della minoranza di non fare polemica su un argomento di interesse generale.